è sicuro di volerlo incontrare è necessario la gente deve sapere oscar mani di schiaffi non ha mai visto nessuno da quando entrato in galera figuriamoci un giornalista per me farà un'eccezione come preferisce la guiderò da lui attento quello picchia così lei è oscar mani di schiaffi tra tutte le persone che ho intervistato non mi è mai capitato di parlare con un bullo finito in galera per 12 anni io non ero un bullo io ero il bullo dunque le va di raccontarmi la sua storia non ho mai raccontato la mia storia a nessuno le dirò tutto ma in quattro terzi ma ma è normale che si veda tutto così male beh vede me lo ricordo come se fosse ieri era il lontano 2003 quando la f era solo una lettera e non un ritrovo per stalker ero il bullo più cattivo della scuola il più forte vede fino ad allora io non ero mai stato beccato ma quel bambino vivevo di violenza il rumore delle ossa rotte gli sguardi terrorizzati questo mi teneva in vita ma non posso credere che la sua famiglia non le dicesse nulla mio padre morì durante la maratona del dottor dimenticandosi di mangiare mia madre morì per un vaccino antivaccino e mio fratello l'unico mio riferimento in tutti questi anni fu un poster di barbara d'urso quanto amavo quella donna e a scuola non c'era nessuno che potesse aiutarla beh sì c'era la mia ragazza a dire il vero penso che tu sia solo un fallito di merda vabbè più o meno e la professoressa la mia professoressa era terribile avevano tutti paura di lei e nessuno voleva mai essere interrogato alla lavagna dicevano che era stata arrestata per spaccio di droga ed era in libertà condizionata ma non avevi una verifica da portarmi? ah sì sì la ricerca e daglie rompe coglioni da qua tu e muove il culo che ho da fare vediamo il compito ti sembra una verifica questa? con lei non serviva studiare il nostro destino era già segnato sei morto ma come è potuto succedere? quel bastardo era preparato mi aveva rifilato una ricerca finta e io dovevo fargliela pagare io adoravo i secchioni non mi sono mai fatto scrupoli a picchiarli così deboli per la prima volta avevano delle prove contro di me non avrei mai immaginato che sarebbe andata a finire così dannata tecnologia quel bastardo aveva uno degli ultimi modelli di cellulare uno di quelli che scattava le foto e poi accadde l'impensabile la professoressa era un poliziotto sotto copertura indagava su di me da mesi Oscar mani di schiaffi erano mesi che indagavamo su di te ma non avevamo abbastanza prove per incastrarti ma grazie a questo coraggioso bambino abbiamo tutto quello che ci serve per poterti sbattere dentro in tribunale avevo tutti contro persino il mio avvocato a un certo punto mi abbandonò mi spiace ragazzino ma non posso aiutarti è lui che ha ucciso Kennedy se potessi tornare indietro tenterei in tutti i modi di fermarmi sarei il bullo di me stesso grazie a tutti